Un cordiale saluto a tutte e a tutti e buon Dante Di. La rilevanza di questa giornata mi dà l'opportunità in veste di docente di filologia e critica dantesca dell'Università di Pisa e di membro della Società Dantesca Italiana di far conoscere due importanti iniziative che avranno luogo in questo anno così ricco di eventi dedicati alla Ligieri. In occasione dei 700 anni della morte di Dante con il patrocinio del Comitato per le celebrazioni del centenario dantesco, la Società Dantesca Italiana, la più antica istituzione dantesca ancora oggi operante in Italia e fondata nel 1888, ha promosso la realizzazione di due mostre nelle regioni di nascita e di morte del poeta. La prima, intitolata Dante e il suo tempo nelle biblioteche fiorentine, sarà aperta al pubblico a Firenze dal 23 settembre 2021 al 15 gennaio 2022. La seconda, intitolata Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna, coinvolgerà diverse città della regione per un intero anno, dal 24 marzo 2021 al 25 marzo 2022. Mi propongo dunque qui di offrire in sintesi le caratteristiche e le novità delle due mostre. Per la mostra fiorentina, la Società Dantesca, preseduta dal professor Marcello Ciccuto, ha nominato un team di docenti universitari e esperti di Dante, i professori Gabriele Albanese, Sandro Bertelli, Sonia Gentili, Giorgio Inglese e il Sottoscritto, incaricati della curatela del progetto espositivo e del catalogo. Iniziativa permetterà al pubblico di conoscere un patrimonio librario rarissimo e di straordinaria importanza culturale, che sintetizza perfettamente il binomio Dante e il suo tempo, concentrandosi su quelle testimonianze manoscritte a stampa che hanno contribuito a ispirare e in seguito a diffondere la produzione letteraria del sommo poeta e il contesto fiorentino entro il quale ebbe luogo la sua straordinaria formazione culturale. Nel ricco programma di iniziative del centenario del 2021 in Italia e nel mondo, la mostra fiorentina promossa dalla Società Dantesca italiana costituisce senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi e un evento tradizionale divenuto nella storia dei centenari dedicati alla Liglieri, cruciale e distintivo per il progresso degli studi danteschi. Così fu nel secolo scorso, in occasione del precedente centenario della morte, quando la Biblioteca Laurenziana realizzò una mostra ideata dal direttore Guido Biaggi e da Enrico Rostagno, all'epoca rispettivamente tesoriere e segretario della Società Dantesca. Allora, come oggi, la Biblioteca Medici Laurenziana e la Società tornano a collaborare per realizzare un grande evento espositivo, allestito nelle tre principali biblioteche pubbliche statali della città, la stessa Laurenziana, la Biblioteca Nazionale Centrale e la Biblioteca Riccardiana. L'evento, che si svolge in contemporanea nelle tre sedi, mira a offrire un percorso originale di manoscritti ed edizioni antiche che riunisce il patrimonio dantesco delle tre biblioteche fiorentine e i codici danteschi non conservati a Firenze, ma di chiara origine fiorentina, allo scopo di ricostruire la circolazione delle opere di Dante nella sua patria. Per la commedia, l'evento rappresenta l'occasione per compiere un viaggio nella storia della diffusione del poema, attraverso i manoscritti confezionati a Firenze dopo la morte di Dante, comprensivi dei primi commenti e delle preziose illustrazioni che segnarono la nascita di un immaginario visivo. Fino all'approdo alla stampa, dalla primissima edizione di Foligno del 1472 alla fortunata Aldina del 1502 e oltre. Sezioni specifiche completano il quadro della produzione letteraria dantesca, i codici della vita nova, delle rime e del convivio, le antiche stampe delle vulgarie eloquenzia, i codici della monarchia e quelli delle epistole e delle egloghe, tra cui l'importante Zibaldone Laurenziano, autografo di Boccaccio. La mostra si completa con la sezione leggere e studiare nella Firenze di Dante, la biblioteca di Santa Croce, che per la prima volta consente di riunire in un unico spazio alcuni dei più importanti codici dell'antico patrimonio librario del convento francescano di Santa Croce, oggi dislocato tra la biblioteca laurenziana e la biblioteca nazionale, mostrando significativi esempi di autori e opere che contribuirono alla formazione culturale di Dante, il quale, nel convivio, afferma di aver iniziato ad apprendere la filosofia nelle scuole degli religiosi e alle disputazioni degli filosofanti, cioè nei due principali studi a fiorentini dell'epoca, quello domenicano di Santa Maria Novella e quello francescano di Santa Croce. Saranno esposti manoscritti che conservano tracce di studio, appunti e note di possesso di lettori coevi, un insieme complesso di testimonianze rappresentative dei molteplici generi letterari e degli scritti indispensabili per la cultura dell'epoca. Testi sacri, esegetici, teologici, filosofici, tipici del patrimonio conventuale librario, si alternano a testi classici di genere grammaticale, storico, geografico, scientifico, offrendo dunque un'idea precisa di quali fossero gli interessi e gli strumenti di cultura a Firenze nell'epoca di Dante. La seconda mostra intende evidenziare il rapporto di Dante con l'Emilia Romagna, terra di straordinaria importanza per il poeta, a tutti gli effetti una seconda patria. Nella regione tra il Po e il Monte e la Marina e il Reno, come egli stesso la definì nel quattordicesimo canto del Purgatorio, Dante soggiornò a più riprese e vi trascorse gli ultimi anni della sua sofferta esistenza da esule. Preziosi manoscritti delle opere dantesche e varie altre testimonianze, storiche, documentarie, letterarie, artistiche, proliferarono rapidamente a partire dal tempo e dai luoghi dell'ultimo esilio del poeta. E sopravvivono ancora oggi nelle biblioteche e negli archivi di città lungo l'antico asse o al margine della via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per Parma, Modena, Bologna, Imola, Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena. Per valorizzare questo rilevante patrimonio dantesco, il Servizio Patrimonio Culturale della regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la società dantesca, ha ideato un percorso espositivo diffuso affinché ciascuna sede di conservazione diventi teatro illustrativo del patrimonio dantesco e di iniziative scientifiche e didattiche. Ideato da Alberto Casadei e curato da Gabriele Albarense, Sandro Bertelli e dal sottoscritto, il percorso espositivo su Dante e la Divina Commedia in Emilia-Romagna si snoda in un fil rouge che accomuna tutti gli eventi, costituito dallo studio della tradizione, della ricezione e dei contesti danteschi fino all'umanesimo. Sono complessivamente 14 le mostre che prevedono l'esposizione di manoscritti in cunaboli e cinquecentine della Commedia e di altre opere dantesche. Il percorso espositivo diffuso nelle città e negli istituti di conservazione che partecipano alla mostra darà la possibilità di avvirare dal vivo i codici più antichi della Commedia, come il famoso Landiano 190 e il codice 3285 della Biblioteca Palatina di Parma e altri manoscritti con straordinarie decorazioni e illustrazioni del tempo e ancora frammenti ed esemplari della prima edizione a stampa del poema e manoscritti e antiche edizioni delle altre opere di Dante. A nome della Società Dantesca Italiana, dunque, e degli altri curatori delle mostre, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invitiamo a visitare i luoghi e i percorsi espositivi che schiuderanno nel corso dell'anno centenario questi straordinari tesori danteschi.